La doppietta di Higuain contro l'Atalanta regala 3 punti fondamentali a Napoli, che tiene la Roma, vittoriosa sul campo del Genova, a meno 2. Higuain sale a quota 32 reti, a meno 3 da Nordal, che detiene il record di gol nella massima serie italiana. Tutto vero, il Leicester di Grado Ranieri è campione d'Inghilterra. La matematica certezza del titolo è arrivata dopo il pari del Tottenham contro il Chelsea. Ranieri è il terzo italiano di sempre a vincere da Premier League. Prima di Luigi erano riusciti Ancelotti e Mancini. Stasera in scena è il secondo atto tra Bayern e Atletico, valido per la semifinale di ritorno di Champions League. Guardiola recupera Ribéry e promette di fare la partita. Simeone carica i suoi in conferenza. Restando noi stessi ce la possiamo fare a Monaco. Si parte dall'1-0 in favore dell'Atletico dell'andata. Ritorno in campo a mano per l'imperatore Adriano, che barbia l'esordio con i Miami United perdendo 5-0 nei derby con i Fusion. L'imperatore è apparso in giro di condizione, ma è stato comunque accolto con grande glamore dal pubblico della Florida. Oklahoma sbanca il campo di San Antonio e Parigi alla serie dopo gara 2. Westbrook chiudevano 29 punti e 10 assist. Agli spursi non bastano i 41 punti di Aldridge. Ad est cominciano bene i Cubs, che battono Atlanta a 104-93 in gara 1 nella semifinale di Conference. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. See you the next speaker. Grazie a tutti. Grazie a tutti. See YOU the next speaker. ци. Buono A tutti. BuonoHro in cinza Nextop quite.